Ci siamo, eccoli! Siamo pronti, non vedo l'ora E allora maestro Stacchi, 3, 4 Andiamo, andiamo, 1, 2, 3 Ehi, fermi lì, sui tuoi modi Sono felice che già state digitando Ma direi i pomodori Numero e tanto che voi state digitando Non ti aspetterete tanto Non ti aspetterete tanto E allora 1, 2, 3 Ma volpe, magari ci rinco State attenti che arriva lo squillo Rin, drin, drin, fate attenti che arriva lo squillo Rin, drin, drin, fatti i vostri dillo Rin, drin, drin, fatti i vostri dillo Vai! Rin, drin, drin, fatti i vostri dillo 1, 2, 3 That's right! Questa mamma d'ora mi ha acquistrato Sì, ho più di uno per me Infatti il testo dovrebbe dire Attenti voi che mette il cordono Che magari vi tiene il pomodoro Purtroppo il pomodoro mi ha distratto Non era abbastanza Io invece speravo l'avesse distrutto La busta invece La busta? La busta? Vi abbiamo, sono i numeri dei telefoni residenziali Quindi di case dove, fra i quali potrebbe esserci anche casa vostra Allora io lo compongo Ma i componi? Vediamo se, vedete voi, se sentite suonare in casa Sentite casomai In palio ricordo, ci sono 1.400 euro Eh? Eh già Guarda la ballerina che si è nascosta La fatta uscire da lì dietro È rimasta prigioniera, vedi? Sì, sì Vieni, vieni qua Chi è? Chi è? Venite Venite, venite qua Venite Venite, venite Venite Ecco, ecco Eh perché vanno, lì c'hanno la camera Fermate, fermate Chi siamo? Pronto signor Antonio? Pronto? Pronto? Sì? Buongiorno, chi è? Casaconte? Sì Buongiorno, chi è? No, non è il signor Antonio La signora? Eh? Sì Ha detto di sì Antonio? Antonio Vabbè Senta, niente, è una comunicazione breve ma spero Intensa, impiacevole Io sono Magalli, la chiamo dai fatti vostri, dal programma di Rai 2 Quello che in onda, in diretta, tutti i giorni E siamo in diretta anche in questo momento L'avevamo chiamata, sperando che lei rispondesse con il titolo del programma Se lo avesse fatto avrebbe vinto 1.400 euro Ma così non è andata Così non è andata Però vince lo stesso un premio di consolazione Quindi le arriverà fra qualche giorno un bello orologio Eccolo qua, un orologio con il marchio della Rai e della nostra trasmissione Per avere inconsapevolmente partecipato al nostro gioco Grazie signor Antonio E' tutto qua, non c'è altro Arrivederci, arrivederci Antonio, Antonio, Antonio Conte Antonio Conte Vabbè, almeno così il motopremi sale ancora Dai, 200 euro, piano piano Abbiamo fatto, possiamo andare avanti? Abbiamo fatto Il motopremi arriva Il motopremi arriva Il motopremi arriva Perfettamente Perfettamente Perfettamente